parliamo del tiro nel subuteo come vedete esiste come vi ho spiegato nella lezione precedente l'area di tiro se la palla non ha superato interamente l'area di tiro in questo modo ok almeno deve essere dentro non si può tirare se è leggermente così vedete non si può tirare la palla deve essere interamente così se si tira che la palla non ha superato l'area di tiro il gol viene annullato nel caso sia fatto il gol mentre invece se il portiere para non ci sono problemi perché è un'azione di gioco viene considerato un'azione di gioco nei momenti in cui voi avete la palla che è entrata nell'area di tiro voi potete con il giocatore tirare ovviamente voi vi posizionerete giocando nella posizione migliore adesso io per comodità del filmato vi mostro la possibilità di appunto colpire la palla in maniera precisa allora c'è la possibilità di fare un tiro centrale colpendo al centro ovviamente il giocatore in questo modo qua vedete e la palla va abbastanza dritta prendiamo la palla posizioniamo se voi volete invece fare un tiro ad effetto cercando di metterla nell'angolino dovete colpire il piattello di sinistra verso la palla in questo modo qua guardate la palla prenderà una direzione verso sinistra adesso non importa se entra o meno è per farvi vedere la direzione della palla guardate vedete che la palla è andata a sinistra perfetto se voi viceversa colpite il piattello a destra ok vedete che la palla andrà a destra guardate avete visto è andata verso destra ok poi spetterà il vostro avversario con il portiere parare se voi colpite la palla in maniera dritta così senza poca potenza la palla andrà dritta quasi a raso terra se voi invece piegherete il dito in questo modo in questo modo qua così la palla prenderà una direzione verso l'alto verso l'alto ovviamente però vedete che il giocatore cade ed è pericoloso perché si potrebbero rompere però ovviamente il tiro prende potenza e il portiere per parare dovrà fare questo movimento in questo tipo cioè col G fare la parata il classico tiro è parata all'incorcio dei pali come vedete ci sono anche le possibilità di tirare da lontano ovviamente se voi tirate da lontano il giocatore deve essere molto preciso cioè l'uomo che colpisce il giocatore deve essere molto preciso perché voi se voi avete distanza fra il giocatore e la palla dovete fare in modo che la palla faccia questo lavoro vedete che la palla facilmente esce fuori quindi voi dovrete essere molto precisi nel colpirlo e in questi casi è importante colpire centralmente vedete altrimenti la palla va a finire fuori ok quindi la precisione è molto molto importante più siete dritti col dito più siete precisi e più la palla vedete va dritta in questo caso ha preso il palo ecco qua questa è un'altra nozione basilare per giocare a sub butto per i tiri quando si batte la punizione ovviamente ci sarà la squadra avversaria che metterà la barriera adesso ne mettiamo uno ovviamente per comodità ok voi dovete fare in modo che la palla scavalchi la barriera perché altrimenti c'è una deviazione chiaro che potrebbe entrare lo stesso in porta però oppone resistenza di conseguenza dovete cercare di posizionarvi siccome nella punizione potete battere come volete l'ideale in questo caso è mettere il giocatore che tagli fuori il più possibile la barriera in questo caso qua vedete ha messo nell'angolo a destra ecco qua queste sono le posizioni per poter battere le punizioni per il rigore stessa identica cosa posizionate la palla al centro del campo al centro dell'area di rigore e poi se volete spiazzare il portiere colpite verso destra se volete andare a sinistra e verso sinistra se volete andare verso destra impiegate la nocca del dito indice in questo modo se volete tirare alto col rischio di traverso palla fuori invece state dritti col dito se volete colpire e fare un tiro centrale ovviamente col rischio che il portiere ve lo pari questo è quanto per quello che concerne il tiro nel subuteo